salve a tutti di facebook e allora volevo dire che ogni volta che posto la cosa dell'avonne per dire quanti giorni mancano la scadenza della campagna volevo dire questo che dovete sbrigarvi ad acquistare le cose di avonne sul mio shop il mio shop lo trovate sulla mia pagina valentina ripanti consulente avonne ecco quindi non è che dovete venire solo a visualizzare le cose che posto sulla mia pagina dovete andare a comprare a comprare sul mio shop come ve lo devo dire perché sennò se voi non comprate io non guadagno non ho un fisso mensile con avonne capito quindi non è che dovete aspettare che adesso le consulenti vengono a fare le riunioni che vi fanno provare i prodotti e poi acquistate non è più così non è più così ve lo dico adesso si fa tutto online ogni consulente ha il proprio shop dove i clienti fanno gli acquisti e facendo gli acquisti una percentuale di questi acquisti viene alla consulente il guadagno quindi più cercate di approfittare in tutto il mese ogni mese di comprare qualcosa lo so che è un periodo brutto lo so però vedo che le altre colleghe dell'avonne sui gruppi di per cercare clienti di avonne hanno sempre le ordinazioni sempre clienti che richiedono informazioni su tale prodotto e cercano informazioni con altre colleghe su su questi prodotti che richiedono ai clienti perché con me non fate così perché cosa vi ho fatto qui su facebook dico le persone cosa vi ho fatto cosa vi ho fatto io io cerco clienti qua clienti e anche consulenti sotto di me e vi assicuro che avonne paga il guadagno dirò sicuro è un'azienda seria quindi vi chiedo per favore aiutatemi anche se in questo brutto periodo perché per me è sempre stato un brutto periodo non c'ho un lavoro vero fuori casa non ho la patente non ho la macchina io vivo ancora a carico dei miei genitori io non voglio essere sempre un peso per i miei genitori voglio avere un mio futuro una mia vita sociale cioè non voglio sempre dipendere dai miei genitori io sto facendo questo lavoro avonne anche per questo motivo per me è come un primo lavoro non è un hobby per me non è un divertimento non è come le altre persone che si hanno hanno un lavoro fisso e lo fanno per svago fare fare l'avonne leader la consulente avonne per me non è così per me è tutto diverso capito? o mi fate guadagnare con avonne o mi fate guadagnare con berubi uno delle due cose però chiedetemi informazioni gente parlate con me fatemi passare anche a me il tempo scrivo sempre io scrivo sempre io dico sempre io le cose e voi non venite mai a visualizzare quello che è posto eh c'ho due pagine due pagine una che si chiama come questo come questa del mio profilo la pagina che è quella di poesie e poi c'è Valentina Lipanti consulente avonne quindi non credete all'altra persone che fanno le cattive con me che mi deridono venite a credere a me venite a parlare con me e come ho detto stasera in un post gente prima di dire per esempio una stasera ma scritto sotto un post che ho messo la rosa di santa rita virtuale per tutti per tutte le donne non per tutti per tutti intendo gli uomini no non è per gli uomini è solo per le donne ecco perché le donne con me possono essere amiche ma gli uomini no gli uomini sono solo conoscenti e quindi voglio dire che questa persona mi ha chiesto vedendo questo post di questa rosa senza leggere cosa c'era scritto sopra mi ha detto ma che brava che sei che bella rosa l'hai disegnata tu? cioè allora se andate a vedere anche un altro post di quella rosa io ho messo anche la rosa che avevo ricevuto io profumata dalle monache di santa rita da cascia perché io ricevo sempre qualcosa dalle monache di santa rita da cascia e sono in contatto con la priora ecco per i mail ogni tanto ci scriviamo e siccome ultimamente gli ho mandato una poesia scritta da me che l'ho messa anche qui su facebook e anche su instagram me l'ho messa e su mio whatsapp e l'ho mandata pure al monastero di santa rita per i mail e gli è piaciuta tantissimo e mi ha ringraziato la priora che la badessa sarebbe della poesia e quindi dopo qualche giorno mi ha mandato questa rosa perché è il simbolo di santa rita e poi perché questo mese maggio è il mese di santa rita da cascia e quindi ho messo in un altro post la foto del barcode e del link sotto perché potete scaricarla tutti insomma la rosa virtuale potete mandarla a chi volete capito per questo vi dico questo perché io prima di tutto non so disegnare sono una frana nel disegno a storia dell'arte andavo bene in terza superiore prendevo nove e mezzo adesso non è che mi ricordo più tanto di storia dell'arte qualcosina perché è dal 2002 siamo a 2021 sono passati tanti anni e anche per questo che non riesco a trovare il lavoro perché io ho solo il diploma di qualifica oltre che ho fatto altri ho fatto dei corsi poi dopo ma come titolo di studio principale ho il diploma di qualifica di tour operator con 71 centesimi e e quindi voglio dire alle persone che se volete conoscermi bene a me e credere in me e avere fiducia in me cercate di trovare un po' di tempo in questa vita frenetica di fermarvi di scoprire il dialogo anche attraverso uno schermo il dialogo tra le persone ogni giorno tutti i giorni tutte le ore o quando non quando volete ogni morte di papa no volevo dire che in 365 giorni all'anno si trova sempre un po' di tempo per raccontarsi perché poi raccontandosi tra persone le proprie storie si può trovare anche qualcosa in comune capito cosa voglio dire si può trovare anche qualcosa in comune qualche interesse in comune oppure che ne sai il mondo è piccolo anche qualche conoscenza in comune che ne sapete se non parlate con me non potete mai sapere bene le cose su di me si io scrivo qualche volta si mi racconto ma non è tutto quello che c'è da sapere su di me dovete anche trovare il tempo di dialogare con me ma non in privato su messenger non contattandomi su whatsapp perché whatsapp lo uso solo per parenti è ristretto è un gruppo ristretto su whatsapp per me parenti amici di famiglia amiche di famiglia conoscenti che conosco da tanti anni e basta ma che ho i numeri in rubrica se a me mi arriva un numero strano e mi si dice ciao come stai io lo blocco su whatsapp come logica perché prima voglio una conoscenza sui social in pubblico sotto i miei post perché a me non mi rimane impresso il vostro il vostro nome e cognome e quello che mi dite allora mi posso ricordare ma se vi fate vivi dopo tanti anni e mi dite e mi dite ciao ti ricordi di me come stai cioè io vi rispondo senta chi è lei perché o lui perché mi sembra aria di presa in giro perché posso pensare che mi prendete in giro cominciò a pensare male quindi se vi fate vivi più volte al giorno tutti i giorni e ci conosciamo giorno dopo giorno anno dopo anno lì c'è più più ricordo in me di voi cioè capitemi anche che io ho sofferto pure di epilessia da piccola e non mi vergogno a dire che ho sofferto di epilessia non mi vergogno quindi capite che l'epilessia è qui un problema di cervello quindi il cervello è quello che custodisce la memoria se il cervello ha qualche problema una come si può ricordare cioè io faccio fatica in molte cose tra cui questa se non mi posso ricordare se non mi scrivete sempre tutti i giorni sotto i miei post di voi cioè alla fine cioè è inutile che che vi stupite che che io mi arrabbi con voi è normale è normale normalissimo questo voglio dire questo ma se la gente non trova mai il tempo per me io non posso trovare il tempo per voi non lo posso trovare magari vi posso cercare come fate voi ciao Ersilia tesora come stai? cioè dovete trovare sempre il tempo per me se ci tenete a me come persona grazie dei cuoricini Ersilia quanti cuori che bello quanti mi piace c'è imparate e quanti baci quanti abbracci grazie un abbraccio anche a te e alla tua famiglia Ersilia come stanno i cucciolotti i pelosetti come sta tuo marito i tuoi figli è così perché a me non sono una che amo tanto le chat poi vi dico anche cioè preferisco parlare in pubblico senza vergogna perché come mi mostro qui come mi vedete qui mi vedete anche di persona perché per me facebook è come una piazza di città ecco dove io sto camminando guardo le cose incontro qualche persona ci parlo oppure magari mentre cammino faccio un bel live capito e vi faccio vedere tutte le cose che vedo più avanti lo farò quando mi sono finita di di vaccinare ciao Valentina buonanotte sono tornata adesso dal lavoro bellissima diretta complimenti ciao a domani grazie mi spiace che sei tornata ora dal lavoro com'è andata ok a domani grazie dei complimenti e io faccio sempre dirette bellissime perché io sono chiara diretta schietta mi piace essere così come persona onesta e vi voglio dire anche in questa diretta che un avvocato mi ha chiesto contattandomi facendomi complimenti per quello che scrivo che mi ha detto che sono una combattiva e gli piace che sono una combattiva e dice che devo continuare così a essere una combattiva mi ha detto di visualizzare il suo canale youtube a tutti il suo canale youtube è risarcimenti e rimborsi dove questo è siciliano questo avvocato e dove che è una bravissima persona vedo da quello che dice nelle live su youtube oppure nei video che ha messo di tre minuti insomma dove spiega le cose per bene alle persone è molto molto schietto e diretto spiegare le cose è molto serio è una persona molto onesta e a meno credo per quello che lo sto conoscendo adesso piano piano perlomeno mi risponde io gli scrivo gli chiedo informazioni e mi risponde è molto gentile e lo potete trovare anche qua su facebook questo avvocato e qui adesso non posso fare il nome qua sulla diretta però se andate a vedere su instagram per esempio ho messo i profili che c'ha sia qui su facebook sia su instagram il profilo come post nel mio profilo di instagram e lì potete vederlo oppure se andate su youtube sul suo canale risarcimenti rimborsi nei video che fa ve lo dice lui come si chiama e quindi anche se lui mi ha detto che posso dirlo mi ha dato anche l'autorizzazione che posso dirlo posso pubblicizzarlo capito mi ha dato lui l'autorizzazione ma io per pravia si preferisco così in questa live ecco e dice aiuta molte persone vedo di invalidi civili quindi e soprattutto ha detto nei suoi video soprattutto nella live ultima che ha fatto mercoledì di questa settimana e che la fa tutte le live e di solito le fa in mercoledì la sera verso le 7 di sera oppure il venerdì secondo gli impegni lavorativi che ha e comunque quando fa le live vi condivido sul mio profilo in tutto facebook e vi condivido il video ecco così potete partecipare e scrivergli sotto nel box tutte le domande che volete fargli e vi risponderà ve lo assicuro perché a me mi ha risposto mi ha ringraziato perché gli faccio gli condivido i video che che mette gli faccio conoscere il suo il suo canale youtube quindi ecco volevo dire questo volevo dire volevo dire questo è che questa persona è molto vedo che è molto competente nel suo lavoro è un avvocato civilista però se ne intende ti sa dire anche se non è una cosa di sua competenza una domanda se non è di sua competenza ti sa dire anche a chi ti devi rivolgere e poi ultimamente la questione della che che dicono che mia madre ha detto che ha sentito pure lei sui telegiornali io non ho sentito che hanno bocciato l'aumento della pensione per gli invalidi parziali ma io ho contattato questo avvocato sotto la live ultima che ha fatto mercoledì scorso di questa settimana logicamente e mi ha detto che sicuramente non sono nient'altro che fake news questa cosa che non è vera secondo lui e mi ha detto che qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda l'aumento della pensione dell'invalidità civile parziale bisogna aspettare bisogna aspettare perché io sinceramente sul tg5 ho detto che mia madre l'ha sentito mia madre ma io non ho sentito sta cosa e io se non vedo non credo se non sento non credo capito anzi mi fa piacere credere a questo avvocato sinceramente perché penso che sia abbastanza competente quindi consiglio di andarlo a visualizzare di mettere mi piace sui sui video che che fa e di farlo girare di farlo conoscere anche ad altre persone ecco che lui è contento ecco qua se volete farmi qualche domanda chi c'è indigna a quest'ora ho anche un saluto anche un semplice saluto però dico agli uomini se mi volete salutare non scrivetemi parole d'affetto non mandatemi i cuoricini non mandatemi i baci solo le donne possono fare questo solo le donne possono fare questo perché gli uomini sennò posso prenderli come provoloni quindi limitatevi al ciao al buon tutto e basta ecco poi se volete parlare con me mi fate le domande e io rispondo però mi sembra di aver detto quasi tutto in questa diretta ecco qua poi mi potete trovare a me anche su tiktok basta che cercate chiocciola vale 85 5 11 e così anche su instagram mi trovate e poi mi trovate anche a me su youtube basta che cercate valentina ripanti la mia storia e potete vedere il mio canale potete iscrivervi al mio canale ascoltare la mia storia e ascoltare tutti gli altri video che ho messo ecco e potete anche commentarli certi certi no certi si ecco volevo dire questo e poi volevo dire un'altra cosa chi ama gli animali i pedosetti intendo perché siamo animali pure noi perché deriviamo dalle scimmie voglio dire che chi mi prendeva in giro con i soprannomi che non voglio stare qui a dire ma la gente capirà secondo me chi mi conosce voglio dire che essendo che deriviamo dalle scimmie vi siete presi un pochetto in giro pure voi dandomi quei quei soprannomi chi merita ancora anche chi merita ancora ecco vi siete presi in giro anche voi quindi quindi vi siete fatti la frittata proprio voi cioè perché come c'è proprio detto chi lo dice lo è e siamo tutti così però chiama i pelosetti anche un'altra cosa voglio dire che mi dà fastidio che sotto un mio video su youtube una mi ha detto una parolaccia volgare è stata molto volgare e mi ha detto anche come si dice che praticamente mi ha fatto capire insomma che gli fa schifo che il mio cane dia le leccate ecco io dico solo una cosa ma quando i pelosetti gli si insegna che magari per un disabile gli si insegna ai pelosetti di aiutarlo nelle faccende di casa non vi fa schifo allora che vi prende i vestiti e ve li mette dentro con la bocca ve li mette dentro alla lavatrice oppure che li prende puliti da dentro alla lavatrice perché ho visto spesso qualche video virale qui sui social proprio così che i cani prendono tutto con la bocca perché la bocca è nelle loro mani quindi e anche le pubblicità in tv la stessa cosa è come anche lì come se leccassero perché nella bocca c'è la lingua capito quindi vi suggerisco una cosa se avete questo schifo per gli animali gente invece di abbandonarli gli animali vi suggerisco di non adottarli ecco se invece avete cuore passione per i pelosetti che li amate allora accettereste tutto di un pelosetto tutto tutto l'affetto che vi può dare anzi un pelosetto vi dà più affetto di noi di noi noi invece ci scagniamo ci aggrediamo verbalmente ci certi mi prendono in giro a me senza conoscermi a fondo io voglio dire impariamo dai pelosetti prendiamo esempio dei pelosetti i pelosetti non si deridono tra di loro anzi se vedono qualche loro stesso essere o che sia un gatto o che sia una pantera oppure una panterina piccola dico cucciola cioè oppure un cagnolino che magari lo vedono per strada noi spesso magari magari non non lo salviamo certe persone magari incoscienti di quello che sono loro nel cervello lo lascerebbero per strada abbandonato al freddo al gelo dell'inverno al caldo dell'estate invece loro appena vedono un loro essere uguale a loro che fanno non ci pensano su un attimo lo prendono con la bocca e se lo portano dove lo devono portare a volte lo fanno i pelosetti così andatevi a guardare qualche video di questo tipo anche su TikTok soprattutto su TikTok oppure su Youtube andatevi a guardare queste cose oppure andate a vedere qui su Facebook i gruppi dei rifugi per gli animali per i pelosetti vedete per esempio l'esempio della cagnolina Ola con la gatta Misha che l'hanno chiamata Misha cioè sono inseparabili sono inseparabili e lei Ola è anche cieca ho sentito su quello che dicono chi la chi la sta curando poverina mi dico poverina però ho trovato questa questa amica gatta e si abbracciano si coccolano cioè vedete vedete la bellezza dei pelosetti che con poco si appassionano tra di loro con poco e soprattutto danno molto affetto anche a noi i pelosetti anzi ci aiutano a vivere meglio quindi vi consiglio se amate i pelosetti non abbandonateli mai perché è come se 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 qualcuno vi abbandona a voi e se e se qualcuno vi abbandona a voi per strada o vi lega o vi lega a un palo come stareste come stareste senza mangiare senza bere per giorni e giorni riflettete su queste cose perché i pelosetti sono per la vita non sono un oggetto i pelosetti come non siamo un oggetto noi capito spero che questo dialogo che ho fatto spero che vi sia piaciuto mettete tanti like su questa diretta e commentatela dite il vostro parere su quello che ho detto ecco e ve lo dice una che è devota sia a Santa Rita da Cascia ma soprattutto devota a Padre Pio vi spiego perché sono devota a Padre Pio sono devota a Padre Pio che poi l'ho scritto anche in un post qui su Facebook però ve lo spiego anche qua così a meno mi diletto un po' a parlare perché mi piace molto parlare e praticamente sono devota a Padre Pio perché una volta io l'ho visitato tre volte a San Giovanni e Rotondo l'ho visitato allora una volta l'ho visitato quando ero minorenne insomma con i miei zii di Foligno e poi una volta l'ho visitato con il club di Milano di Legnano la terza volta questa è stata e la seconda volta invece con mio padre andando a trovare una mia ex amica di famiglia che era pugliese di origine di Andrea e che praticamente abitava a Buster Sizio e praticamente un giorno prima di partire per la Puglia mi è successo mentre facevo la babysitter un piccolo incidente chiamiamolo ecco praticamente stavo facendo giocare questi ragazzini e uno di loro invece di calciare il pallone come si dovrebbe calciare il pallone mi ha calciato il mio piede sinistro e mi ha causato una frattura multipla scomposta dalla tibia del perone e praticamente che è successo sono dovuto andare a pronto soccorso mi ha accompagnato mio padre a pronto soccorso perché non avevo il coraggio di di chiamare un'ambulanza per questo fatto perché ero ancora minorenne avevo 17 anni e avevo paura ero un po' impaurita quel giorno tremavo come una foglia quando è successo poi non stavo ne manco tanto bene io di di salute insomma quel giorno lì avevo il periodo no quello che hanno tutte le donne ogni mese e poi era estate cioè primavera inoltrata più che altro e fatto sa che mi sono subita tre ore di intervento chirurgico in anestesia totale per mettere una placca e otto chiodi e sono stata tre giorni in ospedale il quarto giorno quando sono uscita dall'ospedale la sera la notte prima di partire per la Puglia e prima di partire per la Puglia praticamente ho sognato padre Pio che io mi trovavo in un letto di ospedale e che lui mi si sedeva accanto e che mi toccava proprio il piede infortunato e e praticamente a un certo punto si è girato di viso verso di me mi stava quasi per parlare quando mia madre invece mi ha svegliato perché era ora di di alzarsi ecco e e da lì è svanito il sogno però mi sono sentita bene anche se i dottori mi avevano sconsigliato di partire per fare la vacanza perché essendo che ero con le stampelle e con la sedia a rotelle non avevano paura insomma ma io ho voluto fare di testa mia e mi sono fatta 12 ore di macchina con mio padre e il giorno dopo che siamo arrivati in Puglia ad Andrea siamo andati con il figlio di questa signora e questa signora è mio padre che guidava siamo andati a San Giovanni Rotondo ancora c'era la chiesa vecchia e stava in costruzione con la nuova che io poi ho visitato anche con la nuova e praticamente nella chiesa vecchia c'erano tante persone e alla fine io sono entrata con questa signora che mi spingeva la sedia a rotelle e sono entrata dentro la chiesa e mi ha messo proprio davanti alla statua di padre Pio e allora che è successo? è successo che a un certo punto non so se era per il caldo che era dentro alla chiesa non lo so ma ho sentito un bollore ma un bollore ma un bollore dietro la schiena che non finiva più sentivo un bollore caldo e allora l'ho detto a questa mia amica della Puglia e mi ha detto che poteva essere una grazia di padre Pio perché poi non è finito il racconto e a un certo punto ci spostiamo perché io volevo andare a prendere un souvenir religioso di padre Pio e c'era una delle scale solo che quel giorno non funzionava quella che c'è al lato delle scale la piattaforma per scendere giù con la sedia a rotelle era guasta avevano detto e fatto sta che lì ho sentito un frescume dietro la schiena dove ho sentito un gran bollore ho sentito un frescume e sono stata bene tutto il giorno voi ditemi voi ditemi se non è devozione è questa ecco qua Luigi ti chiami come quello che che mi ha causato questa frattura multipla scomposta guarda caso e no non credo che l'abbia fatto apposta mi ricordo che c'aveva le scarpe di ginnastica un po' lunghe oltre il suo piede ecco poi mi ha chiesto perdono questa persona ecco tutto poi dopo sei anni ho tolto i ferri la placca e otto chiodi l'ho tolti mi sono fatto un altro intervento in anestesia spinale e ho tolto i ferri ma che c'entra che che non lo conosci lo so che non lo puoi conoscere ho fatto solo ti ho detto solo una come si dice una una cosa che mi è venuta in mente ecco c'è lo so che che tu non potresti conoscere ma chissà che ne sai perché poi qua su perché poi qua su facebook o sui social la gente si può sempre conoscere se uno ha voglia di di dialogare con una persona che trova il tempo di dialogare con una persona dialoga sotto sotto i posti sotto i posti qui che metto c'è prova a conoscermi ma per provare a conoscermi bisogna pure raccontarsi sapere quali quali passioni siano in comune raccontandosi si sanno le passioni che siano in comune con una persona oppure le cose vissute se che ne sapete se se una persona ha vissuto le stesse cose di un'altra persona se se non ci si parla con quella persona se 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 si perde tempo ad aggredirla verbalmente senza conoscere si perde si perde quella persona invece di di arricchirsi di un'altra persona si va a perdere quella persona guarda sì mi sentivo con loro una volta ogni tanto mi scrivo mi scrivo con loro ma raramente di rado loro non mi scrivono mai di solito poche volte di rado e io li scrivo poche volte di rado ecco ecco qua so solo che stanno nel veneto ad abitare ma tu chi sei come mai questa domanda di Ugo Abbate e Maria Privé e poi volevo sapere perché mi chiedi mi chiedi che fine hanno fatto loro e allora se mi segui da tanto tempo perché ti fai vivo solo adesso cioè quando uno mi segue da tanto tempo non si incongruisce a scrivermi sotto i post che metto e vedere e vedere le cose che scrivo cioè trovare tempo per seguire la live bene lo si trova ma per scrivere sotto i post che metto nel mio profilo nelle mie pagine no e poi una cosa le scuse si devono meritare e bisogna imparare a scrivere quando si legge tutto bisogna pure imparare a scrivere bisogna trovare la voglia di scrivere è bello scrivere è un passare del tempo scrivere te lo dice una che scrive poesie a me piace molto scrivere più che parlare ecco mi piace anche parlare però mi piace più scrivere e per rimediare con me ci vuole tempo si vedo che mi stai scrivendo qua però scrivimi anche sotto i posti che ho postato tutti questi giorni in tutti questi anni vai a vedere bene il profilo tutto quello che posto da la la z vai a vedere le mie pagine valentina ripanti consulenta von se ti interessa qualcosa dei prodotti perché ci sono anche per uomo i prodotti anche delle cannottiere ci sono della della cotonella che rispetti l'ambiente l'ecologia e poi ci sono anche i costumi non so non so se ci sono anche per uomo i costumi però ci dovrebbero essere sia per uomo che per donna ci dovrebbero essere e anche io lo segnala tante volte ma facebook non vuole fare niente dice sempre che rispetta l'istan della community quindi non so che fare perché non c'è solo quella pagina finta c'è anche un'altra mi sembra che si chiama ragazzi alternativi 2.0 un'altra pagina falsa ecco ecco qua questo voglio dire però per rimediare con me ci vogliono un bel po' di tempo ci vuole un bel pezzo ci vuole ci vuole che bisogna trovare in 365 giorni all'anno del tempo anche mezz'oretta di tempo anche un'ora di tempo oppure anche tutta una giornata cioè bisogna come si trova il tempo per chiacchierare con altre persone anche di chiacchierare con me anche io esisto non sono un fantasma quindi io non è che sono una che che perdono facilmente le persone a volte a volte se si fanno sentire dopo tanti anni e mi dicono ciao come stai ti ricordi di me non stupitevi se io non mi ricordo più di voi e c'è il rischio che posso pure bloccare la persona perché sono da blocco facile dipende da come si comporta la persona con me bisogna sapermi prendere con me per non essere bloccati eh ma prima di shawnee io ho avuto anche un altro cane e ancora non ero sui social quando c'avevo il primo cane shawnee è stato il secondo cane il primo cane si chiamava trip era uno scizzo mentre shawnee era un fox terriernano e adesso hoking che è il terzo cane che è un misto tra bracco e tra bracco e bordecolli e merlo sandy adesso non c'è più è morto come è morto shawnee prima è morto shawnee poi è morto il merlo sandy dopo un po di mesi ecco e anche anche il primo cane non c'è più è morto pure trip come vedete io sono cresciuta con con gli animali con i pelosetti perché proprio quando c'è avuto l'epilessia ai miei genitori dai dottori al besta di milano dopo aver viaggiato in diversi posti in diversi ospedali qui della lombardia alla fine ho trovato il besta grazie a una madre di una mia ex compagna delle elementari e delle medie inferiori e superiori e praticamente quelli del besta hanno detto che essendo che sono figlia unica e essendo che mi avrebbero discriminato la gente mi avrebbe immaginata la gente e sarei cresciuta bene con con un pelosetto nella vita e così è stato io non posso vivere senza i pelosetti e ho anche una gatta mini adesso da da undici anni ecco perché ha undici anni la mia gatta mini ecco ma appunto perché mi seguivi da da quei tempi perché non mi hai mai scritto ok ok che che ti piace scrivere poco però adesso non puoi pretendere di recuperare tutto adesso tutto in una sera solo in questa live perché mai visto in questa live perché mi senti parlare capito eh dovevi trovare il tempo prima perché io non mi ricordo di te cioè non grazie che ti dispiace per quello che ho vissuto però vatti a vedere bene la mia storia su youtube cercando valentina ripanti su youtube è la mia storia e a mettere il like e se e iscriverti alla campanella per seguire tutto il mio canale tutto quello che posto è la mia non mi ricordo neanche questo marco meri non mi ricordo neanche il motivo perché l'ho bloccato magari mi avrà preso in giro magari mi avrà fatto un torto io non blocco così ingiustamente le persone non li blocco ingiustamente le persone bisogna vedere o forse anche perché magari non era il suo nome e cognome vero o magari perché si era messo una foto che non era sua se sono molti motivi io adesso non mi ricordo in questo momento per quale ho bloccato il tuo amico abbiate un po di pazienza con me non è che adesso dopo tanti anni ho bloccato tante persone io nella mia vita qui sui social ho litigato con molte persone quindi a me bisogna sapermi prendere ma non è che con una sola notte mi si sa prendere ciao andrea di toni capito tempo sprecato tempo che non può ritornare più indietro non si può ritornare più indietro nel tempo ci vuole una macchina del tempo per ritornare indietro nel tempo e io quello che avevo da raccontare l'ho raccontato adesso qua cioè a me quello che mi viene in mente io vado a scoppio ritardato quello che mi viene in mente da raccontare lo racconto però raccontati anche tu non è che mi devo sempre raccontare io lo dico per tutti e chi mi segue qua non è che mi devo sempre raccontare io e gli altri mi ascoltano volentieri anche io voglio ascoltare volentieri gli altri che mi seguono c'è sino sino voi sapete di me e io non so di voi questo è il fatto provate anche voi a fare una una diretta live dove vi raccontate e io vi vengo vi vengo a vedere e ci scriviamo se vi sto suggerendo tante cose vi sto suggerendo tante cose a tutti lo dico questo è a tutti che sia bene chiaro e poi tra poco chiudo la diretta perché devo andarmi a sistemare per la notte e anche perché ho preso il calmante prima prima e quindi tra poco crollerò di sicuro e quindi ecco vedete gente se se non vedete quello che posto tutti i giorni tutti i giorni di tutti gli anni cioè cosa pretendete da me io per ricordare per ricordarmi di una persona bisogna che vi raccontate con me dovete aprirvi con me non dovete essere chiusi perché io purtroppo quando dicono il racconto l'ultima cosa quando avevo 13 anni mi è venuto a mancare mia nonna materna è venuto a mancare all'età di 84 anni e di nì è venuto a mancare anche nel sogno perché l'ho sognata pure che moriva ed era il 28 agosto del 98 e fatto sta che io sono leggermente guarita dall'epidessia a 13 anni ero proprio guarita dall'epidessia però all'età di 18 anni mi è venuto a mancare la mia madrina di battesimo all'improvviso per un aneurisma cerebrale e quindi praticamente ho avuto un forte trauma io quando ho saputo che era andata in coma per questo aneurisma cerebrale e che non se l'è svegliata più io dovevo partire pensate per 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 foligno per andare a trovare era estate era luglio ed era anche il mese del suo compleanno e io mi ricordo che con questa madrina di battesimo mia e ce ne avevo molto d'accordo ci capivamo anche con gli occhi bastava guardarci e mi portava sempre da tutte le parti ero molto attaccata a lei e questo via che è stata in coma che è morta io ho avuto un forte trauma che mi ha preso un dolore al petto e alla schiena e da lì questo forte trauma mi ha portato ad aprirmi ero chiusa da piccola non parlavo così non parlavo così ho subito bullismo fisico psicologico da piccola proprio perché non reagivo come sto reagendo adesso con le persone ero chiusa ero chiusa molte cose i miei genitori soprattutto mia madre è venuta a scoprirla adesso da me perché io adesso mi sento per colpa di questo trauma mi sento un vulcano senza freni ecco che si è svegliato che si è svegliato questo vulcano in me e sta fuoriuscendo la lava e come si dice la lava ecco e quindi sono così ho pure una macchina senza freni sono e mi piace dire le cose come stanno e lo so che è una storia drammatica però io non ci ho avuto mai una gioia nella mia vita mai una gioia cioè prima dell'epilessia ho avuto laryngospasmo e non si sa neanche il perché l'ho avuto laryngospasmo perché quando sono andata a fare a Verano Brianza il vaccino il 27 maggio e mi hanno chiesto perché avessi avuto laryngospasmo da appena nata fino ai sei anni e non glielo ho saputo spiegare perché neanche i miei genitori ho chiesto anche ai miei genitori perché perché mi hanno chiesto se magari fossi stata allergica a qualcosa ma che io sappia non me lo ricordo o non lo so perché ero piccola e poi dopo ho sofferto dai sei ai tredici anni come vi ho detto di epilessia parziale e adesso sto soffrendo di ernia ietale, gastrite, reflusso e quattro polipetti nello stomaco e sono una che non mi dovrei arrabbiare però sono molto una molto permalosa sono molto nervosa non sono semplice come persona è brutto vedi 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 che cosa si scopre ho detto una cosa e avete venuto in mente una cosa a cui soffri tu che soffro pure io infatti io ho creato un gruppo qui su facebook proprio per questa patologia dello stomaco per le varie patologie dello stomaco basta che cerchi patologie varie dello stomaco e le varie cure che si usano ecco è molto terribile il reflusso infatti io vomito quasi tutti i giorni tutto il giorno non c'è mai un giorno di pace eh io mi è venuto nel 2013 settembre 2013 perchè stavo ero andata a vomitare e a un certo punto mi sono accorta che mi usciva il sangue dal naso e allora sono andata a pronto soccorso alla mater domini di castellanza e una dottoressa raccontandogli questo problema che mentre vomitavo mi usciva il sangue dal naso che poi lì mi si è fermato lì l'uscita del sangue dal naso e praticamente mi ha detto prova a fare una gastroscopia e allora ho fatto la gastroscopia me la sono fatta prescrivere dalla mia dottoressa di base sono andata a farla e l'ho fatta quattro in questi anni di gastroscopie e poi adesso mi sono fermata perchè sennò rovino troppo lo stomaco e con la prima gastroscopia mi è stata scoperta una piccola ernia dietale di 2 cm e... però è fastidiosa poi ho fatto anche un test di intolleranza alimentare un po' di anni fa e lo dovrei rifare e... praticamente che è successo? che non sono celiaca ho fatto pure la biopsia con la gastroscopia per vedere se ero celiaca ho fatto anche gli esami del sangue appositi per vedere se ero celiaca e non sono celiaca però sono intollerante al lattosio e al glutine e quindi devo stare attento a quello che mangio e soprattutto non bisogna mangiare i fritti e io non li sto mangiando non bisogna mangiare... per la gastrite non bisogna mangiare i pomodori il sugo di pomodoro le salse l'aceto e anche per l'agnegiatale così vale la stessa cosa non bisognerebbe mangiare neanche la cioccolata neanche la menta però... io... ho scoperto delle caramelle alla menta le tic e tac volevo dire e che sono senza glutine e quindi una al giorno o due al giorno me ne mangio ecco anche se sono alla menta che non potrei che non potrei mangiarle e... e poi sto... bevo il coccodrink io che è senza glutine della vivo meglio che si trova al supermercato md ed è molto buono il coccodrink perché non è un latte ecco è una bevanda al cocco e quindi ecco meno male che te non sei intollerante ma... sei proprio sicuro di non essere intollerante a niente hai provato mai a fare un test di intolleranza alimentare? no io non prendo il gaviscone perché sai che mi è stato detto una volta lo prendevo il gaviscone ma al pronto soccorso della mattedomine mi è stato detto che rovina lo stomaco perché che vernicia lo stomaco il gaviscone e non fa... e non fa un cavolo ecco e mi avevano consigliato il marrialle ho preso per qualche tempo il marrialle e adesso cioè mi aveva fatto un pochino bene i primi tempi che prendevo il marrialle ma poi a forza di prenderlo il mio stomaco si è abituato e me lo rigettava adesso non prendo... prendo... io sono andata da un gastroenterologo a pagamento un mese fa e praticamente mi ha fatto sia da proctologo e sia da gastroenterologo questo gastroenterologo e mi ha levato alcune medicine tra cui levo pride e e tra cui anche il pantopolo da 40 e lo prendo solo da 20 la mattina e basta una volta al giorno mezz'ora prima di colazione poi prendo la coetia pina due volte al giorno la notte prima di dormire e andare a dormire e la mattina dopo colazione per stare più tranquilla e poi una volta prendevo il ferro perché ho anche problemi di anemia e ho dovuto mollarlo il ferro da prendere però mangio tanta carne di cavallo mi piace molto le polpette di carne di cavallo oppure l'hamburger di carne di cavallo l'ho fatto in casa eh fatto in casa e poi che posso dire e poi poi ah si e poi che prendo ah poi prendo la pillola anticoncezionale di ane per il problema di aspettate che la sbaglia e per il problema del dell'insuotismo della peluria e per il problema del ciclo prendo la pillola di ane perché è curativa gli ormoni prendo ecco come mai sei vegetariano che è una tua scelta o perché sei costretto a esserlo vegetariano e tu cosa fai nella vita? ma sei proprio convinto che aiuta a combattere il reflusso essere vegetariano? cioè ti l'ha consigliato un nutrizionista o un gastroenterologo o un dietista o è una tua scelta come hai detto una scelta etica? ah mamma mia è un lavoro un po' pericoloso quello e magari potresti farmi passaparola per il lavoro a buona che faccio io con le persone con le persone che che gli consegni le cose eh a me nessun dottore mi ha detto che fa bene limitare la carne sinceramente hai provato magari andare da un gastroenterologo anche a pagamento perché sono a pagamento sì che cosa però che strano che un gastroenterologo consigli di limitare la carne a me non me l'ha consigliato questo ma forse sai che cosa sono le schifezze che potevi mangiare eh fammi indovinare eh patatine fritte the mcdonald ho anche ho anche fatta a casa le patatine fritte io infatti adesso mangio le patate al forno quelle che prima facevo fritte li faccio al forno e poi io ho limitato tanto il fritto non lo mangio proprio ecco poi non bevo alcolici perché non mi piacciono e mi fanno schifo e non mi piace le persone che bevono alcolici e non mi piace neanche fumare infatti non ho mai fumato nella mia vita e sono contro queste cose contro il fumo e contro gli alcolici e anche contro le droghe sono anche queste sono le maggiori schifezze della società e credo ma per tutti che ha i problemi di stomaco così ha vietato queste cose infatti quindi non bisogna bere gli alcolici limitarsi o all'acqua naturale neanche con la frizzante perché con la frizzante gonfia lo stomaco e anche io sono contro gli immigrati devono venire prima gli italiani e poi l'Italia deve essere fatta solo di italiani come l'Africa è fatta solo di africani io lo intendo così perché qui sembra che che il ministro dell'interno di adesso la Lamorgese stia facendo entrare un po' troppi immigrati un po' troppi e dopo noi dobbiamo dobbiamo stare chiusi in casa dobbiamo limitarci alle distanze e dobbiamo limitarci a portare le mascherine viva Salvini sì e loro invece vengono qua dall'Africa senza mascherina senza distanziamento senza che ne so senza anche che si curino non hanno nessuna cura magari stanno male magari hanno qualsiasi malattia oltre il covid che ne sai che non ti può che che magari ti possono contagiare con qualcosa e poi sono portano violenza cioè addirittura rifiutano il cibo che gli dai perché lo buttano senza senza aprirlo cioè ma che ragionamenti sono questi e poi vedi foto di immigrati col cellulare con lo smartphone con il computer cioè cioè non mi sembra una cosa giusta ste cose io vorrei che vada su la lega fratelli d'italia e forse italia e basta nel governo che la maggioranza sia lega fratelli d'italia e forse italia vedo che stiamo andando abbastanza d'accordo quindi assolutamente ci vorrebbe un governo sempre di destra ma che blocchi i sbarchi ma da dove partono ecco non qui in Italia e che poi li rimandano indietro perché certi se ne sbattono di ritornare indietro magari gli consegni il foglio di ritornare indietro e quelli sai che ci fanno? lo buttano il foglio di rimpatrio lo usano come cartigenica si se ne fregano perché se noi italiani siamo troppo buoni e il bonismo non porta a niente ci vuole il pugno duro ma ok agli immigrati che ci sono già qui in Italia che magari sono nati qui in Italia però quelli che che vengono dall'Africa sinceramente adesso è meglio rimpatriarli ma quelli che hanno un permesso di soggiorno che hanno un lavoro possono stare però quelli che sono clandestini che non lavorano l'Italia dovrebbe fare come fanno in Inghilterra non so se hai visto un film chiamato Goal di un calciatore di una storia vera di un calciatore Santiago e praticamente lui era del Sud America mi sembro o del Centro America o del Sud America e praticamente giocava a calcio gli piaceva molto il calcio gli piaceva diventare un calciatore e vedilo ti consiglio di vederlo è un bel film è un bel film Goal e praticamente non sto a raccontare tutto praticamente un giorno questo ragazzo è andato in Inghilterra perché uno un osservatore l'aveva osservato l'aveva invitato in Inghilterra ad andare in Inghilterra di una squadra famosa d'Inghilterra e in Inghilterra per farlo entrare gli hanno domandato in aeroporto sei qui per lavoro o per turismo e lui gli ha detto per lavoro allora si sono hanno chiamato questo questo osservatore che l'ha riconosciuto e l'ha fatto gli ha fatto tutti i permessi per e poi l'ha portato a fare i provini per questa squadra famosa d'Inghilterra ti consiglio di vederlo è un bel film è un bel film se ami il calcio dovresti vederlo però devi devi trovare il dvd ormai se lo trovi su su internet ecco perché non è un film che lo fanno vedere adesso in televisione e racconta molte cose fa capire molte cose fa capire e anche io adesso vado a prepararmi ciao buon tutto sai che il buon tutto il saluto buon tutto è nel corretto italiano e non so se lo trovi in streaming non lo so proprio se trovo se trovo io questo film e te lo condivido se lo trovo i dvd di questo film e te lo condivido qua qua nei commenti grazie del saluto ciao e bel nome Luigi prego figurati e ciao a tutti anche se non mi state scrivendo altre persone però so che qualcuno mi avrà seguito oltre Luigi ecco prego ecco